salve oggi preparerò risotto con gli asparagi ho messo gli asparagi a pezzettini sono asparagi surgelati ho tagliato a pezzettini la cipolla ho aggiunto l'olio e il sale vado a coprire con il mio ottimizzatore mgbooker smart dynamic e accendo a fiamma alta dopo farò soffreggere e dopo aggiungerò il riso dopo cinque minuti vado a controllare il soffritto e mi asparagi e la cipolla sono già soffritti aggiungo il riso ogni 100 grammi di riso poi andrò ad aggiungere un bicchiere e mezzo di acqua oppure di brodo vegetale di brodo di carne come si preferisce io aggiunto solamente dell'acqua aggiungo l'acqua che mi serve e vado a coprire quasi tutto il riso e vado a mescolare e vado a ricoprire con il mio ottimizzatore mcbooker smart dynamic lascio cuocere cinque minuti a fiamma alta dopo cinque minuti do una mescolata il mio riso è abbastanza cotto però vuole gli ultimi minuti di cottura quindi spengo e lascio nato cotto ora e dopo cinque minuti da cotto ora il mio riso è pronto grazie alla prossima media ricetta se questa vi è piaciuto lasciato un like